Dal 1986 la società Arzuffi lavora nel campo dei sistemi di rivestimento in alto vuoto. Una realtà tutta italiana, fatta di passione e innovazione, con un'estrema attenzione verso le richieste del mercato e le esigenze dei clienti. Con più di 600 installazioni in tutto il mondo, Arzuffi è oggi leader mondiale per la fornitura di impianti per la metallizzazione nel settore automotive, da sempre riconosciuto come uno dei mercati a più alto livello tecnologico. Inoltre l'azienda riveste un ruolo importante anche nel campo dell'illuminazione, della cosmesi e dell'arredamento. Arzuffi pone una grande attenzione verso i lavoratori e l'ambiente, progettando impianti ergonomici a zero impatto ambientale. Diverse le tecnologie proposte anche in combinazione tra di loro, PVD, plasma, P e CVD, con un'altissima esperienza e conoscenza dei processi di deposizione, quali evaporazione, sputtering e plasmi. Grazie alla sinergia tra ricercatori, tecnici e ingegneri, si realizzano impianti automatizzati e personalizzati, in grado di rispondere alle richieste dei nuovi mercati, abbattendo i costi, incrementando la produttività e migliorando la qualità del prodotto finito. Arzuffi supporta costantemente i propri clienti, attraverso un servizio di post vendita, garantendo un supporto tecnico 24 ore su 24, grazie alla Remote Connection. Questo è il nostro mondo, fatto di idee e di ricerca, di tradizione e di passione, e di uomini. Uomini che hanno permesso a questa realtà di raggiungere oltre 40 nazioni e diventare leader mondiali. Arzuffi, innovazione italiana, eccellenza mondiale.